lavorare la vetro resina è bellissimo quando non hai la benché minima idea di come lavorare la vetro resina è la prima volta che faccio un lavoro del genere c'ho da riparare tutte le carene ma hanno detto oh mi ha detto l'omino mi ha spiegato detto se le mischi male esplode ti rendi conto